io sono appena svegliato ordinato da mangiare chiaramente perché tutto chiuso così col covid ho dovuto ordinare online adesso sto aspettando avanti chi è sì io però non pensavo che arrivasse così io pensavo arrivasse il solito maschio cestro deficiente ma così cazzo cazzo c'è anche il tatuaggio qua è incredibile giratemi c'è anche comunque ma vaffanculo io mando sempre a slide e te lo scolpe perché io sono troppo scolpe pieno di gambeli pieno di fongole pieno di copse pieno di scanti